Per poter lavorare in un'azienda come la nostra è fondamentale avere i seguenti ingredienti la prima cosa una forte adesione alla nostra cultura e ai nostri valori aziendali che premiano grande responsabilità grande imprenditorialità e grande adattabilità al cambiamento nonché la guida dello stesso ma allo stesso tempo come vedete siamo in un contesto in open space per cui il fatto di poter lavorare in squadra insieme è uno degli ingredienti che rendono questa azienda un posto unico anche per le persone che vi lavorano. Noi siamo una squadra e crediamo che solo insieme possiamo raggiungere i risultati. Ultimo punto ma non per minore importanza è la capacità di apprendimento. Noi cerchiamo persone che abbiano questa curiosità e voglia di migliorarsi continuamente per poter stare al passo con le sfide che il mercato e l'azienda ci chiede. Noi teniamo tantissimo alle nostre persone e proprio perché crediamo fortemente che siano il volano della nostra crescita volano di una crescita che si è concretizzata anche in quattro anni di crescita consecutiva con miglioramento di tutti gli indicatori finanziari.